Siamo impegnati H24 per garantire la migliore azienda possibile, i migliori risultati possibili e il miglior rilancio possibile. Un lavoro di squadra, non stiamo mettendo in campo né epurazioni né commissariamenti, ma come ho detto al primo momento c'è bisogno di allargare la squadra, per consolidare le due aziende fondamentali pubbliche, sottolineo pubbliche, e con me saranno sempre pubbliche e rilanciate da un puntista pubblico, sono ASI e SAPNA e credo che quello che metteremo in campo da quei prossimi giorni garantirà all'area metropolitana e alla città più sicurezza nella materia di rifiuti e più pulizia, ai lavoratori più forza, rispetto e dignità, volendo chiedere loro però anche tanto grande impegno e rafforzare anche la squadra di vertice di queste aziende che hanno bisogno di essere sostenute da ogni punto di vista, un punto di vista istituzionale, politico, amministrativo, ma anche economico e finanziario. Vorrei sottolineare, se posso, approfittando di questa domanda che è molto importante e che mi sta molto a cuore, perché io personalmente ci dedico molto tempo quotidiano nella mia vita di sindaco di Napoli e metropolitana ai rifiuti, che una sottolineatura di plauso, a mio avviso, va data a tutti noi, intendo dire tutti noi, non solo il sindaco, perché forse di questo si è parlato troppo poco, di come abbiamo superato brillantemente la chiusura del termovalorizzatore di Acerra. Questo è un tema, sinceramente, se consideriamo che molti politici, molti mass media e anche figure istituzionali della nostra città, compreso il ministro Salvini, che ci fece andare sul Rai 1, dicendo che Napoli sarebbe caduta Rai 1, per dire i vertici, ma anche Rai 2, Rai 3, eccetera. Il giornale nazionale, sì, esatto, per dire come ascolti, dicendo che stavamo piombando in emergenza rifiuti, molti hanno dato per scontato che questo accadesse. Noi abbiamo superato brillantemente, con grande competenza, capacità, coraggio, passione e collaborazione da tutte le istituzioni, la chiusura di un termovalorizzatore che abbiamo dovuto gestire 80.000 tonnellate di rifiuti. È chiaro che questo ha provocato qualche stress particolare di alcuni impianti stili che sono andati in affanno, uno stress anche del sito di trasferenza dell'ICM. Insomma, ci sono state delle problematiche, ma adesso si rientrerà nell'ordinarietà, stiamo svuotando in questi giorni l'ICM. Tutti devono essere consapevoli che è stato fatto un lavoro che ha impedito alla città di Napoli, agli altri 91 comuni e alla regione Campania tutta di entrare veramente in emergenza rifiuti. Come dire, l'ho detto alla fine, proprio per dire che i problemi ci sono, li superiamo, li superiamo con uno spirito di squadra, ma queste squadre sono quelle che ci hanno portato a questo risultato brillante. Quindi non stiamo lasciando nessuno indietro, stiamo rafforzando proprio perché crediamo troppo nel decoro e nella pulizia e non possiamo accontentarci di dire, bene, non siamo andati in emergenza rifiuti, però tiriamo le carte per terra, il riassetto che non funziona, questa roba deve scomparire, siamo riusciti a fare miracoli, non ci possiamo perdere un bicchier d'acqua. Quale può essere il timing dell'entrata in funzione di un nuovo assetto societario? Io ho scritto una lettera, mi aspetto che per questa settimana, spero venerdì, non so se sia stata già convocata, ma mi auguro venerdì, ci sia l'assemblea, i tempi sono molto rapidi, poi una volta che si delibera il consiglio di amministrazione a tre, nel quale vogliamo lavorare, io farò l'avviso per la selezione dei tre componenti, tra cui uno farà il presidente, che verrà scelto dal CDA, credo che darò una quindicina di giorni, quindi se tutto consideriamo, pur correndo al massimo, ma dobbiamo dare i tempi perché noi vogliamo fare una selezione adeguata, credo insomma tutta l'operazione si potrà chiudere nel giro di una ventina di giorni, più o meno. No, sempre sull'ICM, perché è notiziale queste ore che i cittadini vogliono fare ronde H24, cioè stare anche fuori all'ICM H24, oggi ci sarà un'assemblea alle 18 dove discuteranno di quello, lei come? Non c'è bisogno di ronde, posso rassicurare ai cittadini che in atto lo svuotamento di ICM, il cui tempistica, se non ci sta chi si mette di mezzo, sta colando lo svuotamento, l'uscita di circa credo 200 tonnellate al giorno, a quindicina di giorni sarà svuotato completamente l'ICM, il nostro obiettivo è farne un sito di trattamento del multimateriale, è chiaro che su questo ci deve aiutare molto anche il governo, perché come voi sapete, vi dico qual è il problema, non è un problema solo di Napoli, è l'umido, cioè c'è un problema nazionale di conferimento dell'umido, cioè il tema che Napoli sopperisce brillantemente alle crisi e come dire, non si vedono i rifiuti per strada, ma a Roma come in altre città siamo già i rifiuti per strada, è umido, e tra l'altro c'è un'altra preoccupazione che è già in atto in molte zone e anche in Italia, che proprio perché non si riesce a trattare in modo adeguato l'umido, non si sta più facendo una raccolta differenziata buona, la gente conferisce l'umido insieme all'indifferenziato, tutto questo aumenta la capienza degli stir, gli stir vanno in difficoltà, gli stir si stressano, gli stir si guastano e succede quello che vediamo quotidianamente, è un tema che io conosco molto bene e su cui sto lavorando, e su questo e su altro vedrò giovedì mattina a Roma il ministro Sergio Costa, su questo e su altro chiaramente, quindi i cittadini fanno bene come dire a preoccuparsi perché vuol dire che amano il loro territorio come lo amo anche io, che nessuno vuol creare loro disagi, ci sono stati disagi ovunque, credo che adesso è in atto già da sabato scorso lo svuotamento che mi hanno assicurato che si completerà nel giro di una quindicina di giorni, quindi la vigilanza va bene perché controllino che questo avvenga, anzi aggiungo se non avvenga fatemelo sapere perché sono il primo a protestare insieme a loro, ma non facciamo invece atteggiamenti che poi impediscono lo svuotamento perché sarebbe il paradosso, vuol dire a quel punto sarebbe una strumentalizzazione politica di qualcuno alla quale non voglio nemmeno credere.